Cantù di nuovo in campo domani alle 12 al Paladesio per la penultima partita del girone di andata. I Brianzoli, forti di quattro successi consecutivi, sfideranno la Germani-Brescia. Un derby lombardo che per la squadra di coach Cesare Pancotto sarà la terza partita in una settimana e l'ultima del 2019. La San Bernardo-Cinelandia chiuderà il Tour de Force natalizio contro un'avversaria di valore, la Leonessa di coach Vincenzo Esposito, con 18 punti. La Germani è attualmente la quarta forza del campionato. Nel mese di dicembre Cantù ha avuto un'unica battuta di arresto in casa della capolista Virtus Bologna. Poi solo vittorie e otto punti importanti perché arrivati contro avversarie che hanno, come i Brianzoli, la salvezza come obiettivo principale. Affrontiamo una grande del campionato, una squadra esperta, talentuosa e ambiziosa, ha detto coach Cesare Pancotto. Con una serie di partite così rappicinate non si ha il tempo per prepararsi al meglio e bisogna puntare sulle motivazioni. Siamo il vascello contro la corazzata, ha aggiunto Pancotto. Dobbiamo portare ai massimi livelli la nostra canturinità, la nostra difesa, le nostre buone percentuali di tiro e il lavoro sui rimbalzi. Per colmare i gap che ci dividono da Brescia, nelle ultime partite ha cercato di far giocare di più chi abitualmente è meno in campo, così da avere più energia a disposizione per la sfida contro la Leonessa. Fondamentale sarà poi la determinazione mentale.